Il palco per me rappresenta un po' un inizio, lì fu il mio primo live, quindi partì tutto quello che è un po' la mia storia, è un palco importante, pieno di responsabilità e dove ho cercato di lasciare giù più musica possibile, è una canzone a cui tenevo molto, sarà un'ennesima sfida e sarà un momento per raccontare questa canzone. Quel palco a livello nel senso artistico, quindi poi le canzoni sì, sono sempre arrivate in maniera molto forte, a volte anche profonda, a volte più leggera, però diciamo che il concetto della profondità è una cosa che ha sempre legato in generale tutti i pezzi, se penso anche a Genesi in verità è un testo pesante, però raccontato in una chiave divertente, un po' come se pensiamo a un papote di Stromè, sono quei pezzi o una reference che a me piace tantissimo, chiaramente non mi permetto di fare a paragoni con un grande come D'Andrea, però se penso a la ballata dell'amore cieco o altri pezzi che sdramatizzano qualcosa di pesante, con qualcosa di più divertente come può essere nel mio caso la Cassin 4, quindi il vocoder dei suoni un po' più freschi, quindi in verità ho sempre cercato di mantenere una lina profonda e di cercare di portare un testo a cui tenevo molto a Sanremo, quindi anche quest'anno ho voluto dare priorità a questo. Come è nata questa canzone e quante forme ha attraversato prima di raggiungere la forma aurea che poi ascoltiamo? Poche, è una piano e voce nata la canzone e in generale il progetto, diciamo il disco che sto facendo si basa proprio su questo principio, per me una canzone deve reggersi, chitarra e voce, piano e voce per essere inserita in questo disco, in quest'album che sto facendo, più vado avanti col tempo più mi accorgo che la solidità della melodia, del testo e dell'emotività della canzone per me diventa protagonista assoluta rispetto a tutto quello che è per me un orpello, un contorno, un suono, una roba cool, quello che mi interessa principalmente è la canzone. Io ho trovato questo testo fortemente sinestetico, cioè tu riesci a disegnare con le parole delle emozioni abbinandole a dei suoni o alla mancanza di suono, perché ho trovato fortemente quello che è un po' la tua sofferenza in questo pezzo che è il silenzio e poi tu dici una sola volta, pronuncio una sola volta la parola grido, quindi ti chiedo se un po' è così e anche poi il modo in cui utilizzi la voce è una risposta. Certo, sì totalmente, peraltro nel momento in cui grido sto gridando perché è proprio un'altalena questa canzone, infatti per quello che poi a livello vocale non è facile perché è proprio un'altalena tra note molto basse e note molto alte e assolutamente le parole e la melodia vanno spesso di pari passo, è una cosa che mi è sempre piaciuto fare e sono contento tu l'abbia notata. Per me la parola, la melodia non deve fare nient'altro che enfatizzare quello che stai dicendo, e in questa canzone secondo me il concetto su cui si basa è proprio questo, cerco di enfatizzare il più possibile quello che racconto utilizzando il modo per me, chiaramente soggettivo, poi magari qualcuno non piace, è sempre un gusto soggettivo, però cerco di enfatizzare quello che faccio a livello melodico, quello che dico con la melodia, sempre. Nella serata delle cover hai scelto praticamente un mostro sacro come Cocciante. Una leggenda, Riccardo Cocciante è Riccardo Cocciante, una leggenda della musica italiana, sono contento e sono onorato che lui voglia salire sul palco con me e racconteremo una canzone incredibile. Tu No, hai già un po' accennato, è l'assaggio di quello che poi arriverà dopo. Sì, Tu No è assolutamente una canzone che secondo me era giusta da raccontare su quel palco, almeno per me mi sarebbe piaciuto farlo. Chiaramente poi dopo il disco è ricco, è ricco di suoni, è ricco di musica, dovete sentirlo. Sarai anche nelle veste di presentatore, perché quest'anno Madeus ha aggiunto questa... Sono pessimo, te lo dico già, io non sono bravo a fare quel mestiere, proprio zero. Ecco vedi, ha messo un po' in difficoltà e in realtà... No, perché fortunatamente non c'è aspettativa, quindi non ho ansia perché non è il mio mestiere e non sono lì per quello, quindi no, però io sono veramente pessimo, avrò un imbarazzo incredibile, soprattutto quando devi gridare tipo, allora lui... non ce la fa, cioè io muoio. Dirige l'orchestra? No, mi pazzisco, ma io mi vergogno già, non so dire, mi vergogno, devi avere una predisposizione, no? Io quella roba lì proprio sono lontano, sono più chiuso. Senti, e chi ti piacerebbe però magari presentare o da chi ti piacerebbe essere presentato dai colleghi? Boh, oddio non mi sono mai chiesto, allora mi... Allora mi piacerebbe che mi presentassero per te, perché spacca. Sarebbe super rock come cosa. Presentare non lo so, non lo so, però mi piacerebbe essere presentato, se ci fosse la per te, dai. Ma non si può chiedere? Mi piacerebbe che commentasse anche, dicesse qualcosa in più, cioè sarebbe credibile. Questa cosa direbbe? Oppositivo o negativo, chi se ne frega, però che dicesse qualcosa in più sarebbe pazze, iconico. Senti, l'anno scorso non c'è stata nessuna donna tra i primi cinque, il podio a cinque. L'anno scorso? Sì. Quest'anno invece c'è una componente femminile molto forte, quindi questa presenza, anche poi nel pop l'abbiamo visto, insomma, grandi artisti, penso ad Annalisa ad esempio, che ha fatto un grandissimo successo negli ultimi mesi, frutto di un percorso. Bravissimo, sì, bravissimo. Beh, in generale io sono super contro a trattare diverso uomo-donna, c'è proprio il concetto di divisione per me, tipo successi femminili, successi maschili, per me è un concetto orribile nei confronti anche delle donne oggi, che mi sembra che il contrario di valorizzare una donna, secondo me, dire tipo carriera femminile e poi carriera maschile, mi sembra proprio quell'opposto, perché non c'è una differenza, per me un artista è un artista che sia uomo-donna, se io penso a Mia Martini, io penso a, che ne so, a Zucchero, artisti per me grandissimi, non è che penso a un uomo-donna, penso semplicemente a due grandissimi artisti, quindi sono molto contro e non ho anche il concetto che prima non c'erano donne, adesso ci sono, secondo me sono tutte mancanze di rispetto, secondo me, perché non ha senso, se non c'erano una donna, perché in quel momento lì non ci doveva essere una donna, se ci sarà una donna o ci saranno tutte donne, perché lì ci devono essere tutte donne, chi se ne frega se uomo-donna, è la canzone che conta, quindi proprio vado da quel punto di vista, non me lo chiedo, ma non me lo chiedo perché io ancora prima non me ne frega niente se uomo-donna mi interessa la canzone, non noto se c'è una donna… È un vettaggio magari del pubblico che ha… È musicale, cioè non è una questione uomo-donna, è una questione musicale perché appunto come dice poi c'è arriva Annalisa che è fenomena, bravissima e ha un sacco di numeri, cioè è proprio una questione… secondo me neanche il pubblico in verità, non ho notato, te lo assicuro, è più una cosa… mi sembra sempre una cosa imboccata, invece chi se ne frega, se vince una donna o un uomo non mi cambia niente, l'importante è che sia un grande artista o una grande artista, quello conta, chi se ne frega… Capitolo Fanta Sanremo, sei… Sono il peggiore anche quello, come presentare? Presentare… lo faccio tutta quella sera, farò tutto, faccio presentare Fanta Sanremo, faccio tutta quella sera, lo faccio… Grazie Filippo, buon Sanremo.